Questa è una riforma che ci porta ad essere ancora più competitivi, siamo una delle prime sanità al mondo. Ovvio che nel frattempo non è che gli ospedali chiudono o non si curano i cittadini, però lo vogliamo fare in maniera ancora più efficiente riorganizzando il sistema. Il ridurre le ULS, che era un progetto della campagna elettorale, resta per noi un obiettivo. È una battaglia quindi che continuate? Definirla battaglia la trovo un po' grande. Penso che sia fondamentale ricordare che c'è un giusto confronto tra maggioranza e opposizione e poi al fine però bisogna anche votare, quindi chiediamo di votare. Il confronto sulla sanità veneta prosegue su un doppio fronte. Internamente la riforma proposta dal governatore Luca Zaia è bloccata sulla riduzione del numero delle ULS, che ha scatenato l'ostruzionismo dell'opposizione in Consiglio regionale. Sul fronte esterno invece il Veneto deve fare i conti con i nuovi tagli imposti dal governo. Se passa questo ennesimo provvedimento, gli attuali livelli non saranno più sostenibili, spiega Zaia. Dovrò impugnare la penna e chiudere ospedali. Non ci sarà altro da fare. Chi ci ha portato a questo estremo ne risponderà alla gente. Risparmiare in sanità si può, aggiunge il governatore, ma siamo stufi di essere presi in giro da chi spaccia il concetto di taglio con quello di spending review. Revisione della spesa è ben altra cosa, è applicare i costi standard immediatamente in tutta Italia dai cerotti alle TAC, ma non si ha il coraggio di farlo. È tagliare davvero dove si spreca e non in tutto il paese, ma non conviene perché dove si spreca ci sono milioni di voti. Siamo tutti preoccupati come governatori. Renzi sostiene che non dare quello che si aveva promesso non è un taglio. La verità è che si riducono i LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza, e la ricaduta oggettivamente ci sarà nella sanità, perché avremo meno soldi, avremo un miliardo e mezzo in meno.